Grazie per essere venuti, siete tantissimi, anche più di quelli che ci aspettavamo, infatti se potete notare siamo un po' intimi, in un ambiente ristretto. Intanto vi ringrazio ancora per essere venuti, questo è uno degli ultimi appuntamenti che riguarda il semestre da gennaio a giubito, del vestito di cultura lingua russa, abbiamo presentato in questi mesi tutta una serie di libri tra cui Guida uno Scaribelle, Storia della letteratura russa di Budokat e via dicendo, oggi mi fa molto piacere presentarvi questo libro di Dola Sandro Rechi Editore, è scritto dal nostro scrittore di viaggi Vittorio Russo della mia sinistra, che non ha solo scritto la razza italiana, innanzitutto ha la prima progettata per circa 8-9 mesi e poi è fatta, chiaramente. Progettarla significa anche andare a scegliere bene il percorso, perché è un tratto di circa 9.000 km, in cui è impossibile pensare di vedere tutto, bisogna anche documentarsi prima e poi fare delle scelte in un lato. Noi come istituto di cultura lingua russa, credo che abbiamo come priorità quella di dare voce a tutta una serie di iniziative di piccoli e medie minori che altrimenti farebbero fatica sempre a proporre i loro contenuti anche di alto livello come questo, che è un libro che ha il pregio di essere molto interessante perché è pieno di contenuti, è scritto in una maniera leggera ma nello stesso tempo profonda e secondo me è anche proprio un bel libro, un bell'oggetto, ha una copertina bellissima con una foto in realtà che si snoda, per cui avete uno sguardo di una transiberiana che può essere una bella lettura di evasione perché è qualcosa di esotico come viaggio, ma nello stesso tempo secondo me può essere un bello strumento per chi veramente la transiberiana la vuole fare come me, perché non l'ho fatta, che sta pensando poi di programmarle, di progettarle in questo caso anche con l'aiuto del lettore, con cui poi parleremo di questa cosa e nei prossimi mesi vedremo come progettarla. Allora, due parole su quello che mi ha colpito di questo libro, sono preso qualche appunto per essere molto molto veloce e per fare poco tempo poi a vittorio. Allora, la transiberiana parte da Mosca, nei libri infatti c'è una piccola parte che riguarda proprio l'avvio di Mosca, su Mosca diciamo non dico veramente nulla perché non ha molto senso, mi è piaciuto molto la parte dove tu parli di questa Gianna, cioè di questa circassa, di questa ragazza che ha questi tratti caucasico orientali, che ti colpiscono di lei con gli occhi neri e questo incontro che avviene al centro di Mosca e diciamo che già questo incontro tra Mosca, la Cassiale ed una persona che parla russo ma che non è proprio un'etnia slava, da già il senso di quello poi che sarà il viaggio, già questo incontro al centro di Mosca fa capire che poi questa ferrovia che si snoda lungo 9000 chilometri tocca paesi e popoli differenti per cui la lingua russa è un po' una coine, è una lingua comune ma che assolutamente non appiattisce e non smorza le differenze che sono comunque notevoli. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il sentimento con cui tu affronti questo viaggio che non è proprio il sentimento della scambagnata della serie che andiamo a fare un fine settimana da qualche parte ma è una consapevolezza molto più profonda, in parte maturata dai mesi che procedono il viaggio che sono mesi di preparazione e di valutazione, in parte proprio è il sentimento che tu hai nel momento in cui sei in Kasansky-Maksal, stai per salire sul treno, c'è questo treno che c'ha queste fiancate sporche di grasso, i freni sfiatano, tutti guardi sul tuo compagno di viaggio e dice vabbè dopo mesi in cui abbiamo parlato della transiteriana adesso parte, quindi adesso c'è quel momento in cui, come dire, quel sottile strano di ghiaccio, diciamo il problema, dice il ghiaccio è rotto, è russo, insomma quel sottile, quella membrana, un po' quel momento di indecisione, a un certo punto va rotto, va infranto e si comincia. Altra cosa molto interessante è capire quando è stata fatta la transiteriana, quindi è nel 1900, in un momento in cui c'è l'esposizione universale di Parigi, ci sono tutta una serie di opere che proiettano l'uomo un po' nel futuro, grandi opere di ingegneria e di architettura, l'idea della transiteriana è quella di spostare merci, di aprire un canale commerciale tra l'Europa e il Giappone, favorirà completamente questo obiettivo, però diventerà comunque una via di comunicazione che aiuterà poi a unificare tutti quei popoli, quindi un progetto che parte in una Russia che è ancora zarista e viene portata a compimento quando ancora la Russia è zarista, ma poi è uno strumento che verrà utilizzato anche nel periodo dell'Unione Sovietica per unificare tramite la lingua russa tutta una serie di popoli e cominciare questa colonizzazione dell'Oriente Russo, per cui ci sono tutta una serie di città che in realtà nascono e si aggregano intorno a dei centri industriali specializzati in determinati settori, per cui è interessante anche capire come la transiteriana diventa uno strumento anche di pubblicazione culturale, in un certo senso anche se non avviene quell'appiattimento assoluto, perché poi come racconti nel libro ci sono comunque tante differenze, quindi diciamo che parte da Mosca è un viaggio non solo attraverso lo spazio ma anche attraverso il tempo, è un viaggio che attraversa la storia perché viene progettata sotto la Russia zarista ma verrà poi, diciamo così, utilizzata, entrerà in opera sotto la Russia sovietica, si passa dalla Russia europea a terre dove il tempo si ferma, si entra in un'altra dimensione o in altre dimensioni, anche più di una, per cui direi che a questo punto l'ultimo appunto è su Omsk, è su Omsk perché non sono l'unico amante di Dostoevsky, quindi mi ha ricordato il discorso dell'esilio di Dostoevsky che questa fermata che tu hai progettato ad Omsk, fregandone di Tomsk, proprio perché hai operato delle scelte nelle varie stazioni e quindi poi chiaramente hai bracciato un percorso. Io direi che a questo punto la parola va a te e allo splendido viaggio che hai fatto. Ok, grazie. Grazie. Grazie a tutti che siete numerosi e sono anche confuso perché normalmente quando presenti i miei libri siamo 4-5. Eh ma questo è l'effetto dell'ernestina. Io devo ringraziare l'ernestina che vedo a ogni presentazione la rumola di 4.000 libri, però sto pubblicando scrivere un libro lato, però scrivere un libro lato significa essere pastore di pecore non pastore di cultura. Ti ringrazio, hai detto tutto quello che mi piace ascoltare da chi legge il libro con cura, come hai fatto lui. Quando hai parlato di questa ragazza, Circassa, che poi è la compagna di un mio amico italiano, al quale ha dato un nome che non rispetta, si chiama Alessandro. Noi ha avventura nei tempi e negli spazi lontani e ama Alessandro il macevolo e quindi Alessandro per i popoli asiatici e gli arabi diventa Eskander, è come si chiama Eskander. Ma a parte questo non è per caso che c'è, è tanto bene, non è per caso che si parla di Giana. Se ne parla perché è primo approccio con il mondo al di là di il libro. Io vorrei dire alcune cose soltanto lasciando al libro tutto il resto che non vi vorrei raccontare per la seconda volta. Dire che nel libro non ci sono tutte le descrizioni delle difficoltà che si incontrano ad un viaggio del genere. Immaginate bene che è un'avventura concepire un viaggio del genere per noi abituati alle comunità, abituati al GPS anche per andare a questa lumiere, ci mettiamo in un treno e affondiamo l'innovo. Mi piace quello che vi ha detto a proposito del treno. Il treno che abbiamo visto sgarruppato, quasi minaccioso con il suo apparente vecchio, aveva trafilature di lasso e sembrava sudato di una fatica immane. In realtà arrivava dall'estremo oriente e per lui è stata una botta di fiducia perché questo ha fatto usare il viaggio, quindi sa la strada, sa come si fa, ci dà garanzia. Rispetto invece all'oggetto diventa più importante dell'umano. L'umano è il controllore dei nostri passaporti, il controllore dei nostri binetti freddo, lontano, artico con la sua freddezza comportamentale, senza conoscere una parola o una lingua comune. Poi abbiamo scoperto che parlare le lingue in Siberia non si parla con la lingua delle persone semplici, cioè i bambini. Come si parla con i bambini? Come si parla con i bambini? Come si parla con i sotrisi, una carezza. Naturalmente non volevamo fare carezze alle donne calmucche o altro. Però c'era un modo di parlare, era questo fondo d'elevatorio che si abbassava con un sotriso ed è il più bello. Abbiamo simbolizzato con tutte le etnie che abbiamo potuto incontrare. Mi volevo soffermare sul perché nasce un miraggio come questo. Nasce perché hai esplorato te stesso, come te stessi, hai un miraggio di te stesso, vuoi vedere dove puoi arrivare conoscendo un altro mondo e vedendolo rispecchiato in mezzo di sani. E mi sono ricordato quello che fa lo storico, vero? Io non sono storico, non sono in maniera molto approssimativa. Lo storico è colui che è visto, è colui che vede, colui che vede e che racconta quello che vede. Tutto quello che vede degno di essere raccontato si fa storia, altrimenti non ha senso. Nel tempo stesso, dicevamo prima, ha senso se è pieno di eventi, se nel tempo non ci sono eventi, tutto il tempo non è nessuna ragionezza. Questo è un'esperienza per me strana, strabiliante per certi aspetti. Superate queste montagne di visori e frasi a Europa, il tempo è cambiato profilo, è diventato un'altra cosa. Da questa parte, cioè nel mondo europeo, tutto è affettato, fatto ecco, abbiamo visto la stazione dalla quale siamo partiti, io ho parlato di un mondo unicale, di un mondo enorme nel quale vortica sta gente che poi passa attraverso la bocca stretta dei minuti per salire su un treno che è andata la volta a Marte dei due giorni. Superato gli umani, tutto è diverso, il tempo è diverso. Il tempo, ho parlato di Sant'Agostino, quando gli si chiede, tu che sai del tempo? E' stato lì, mi rispondo io, io so che è così il tempo, perché se devo spiegare, non riesco. Allora il tempo è qualcosa in passato, qualcosa che non c'è più, quindi non c'è. Il futuro è qualcosa che verrà, ma che non conosco, quindi non c'è. Il presente, ma il presente non viene in passato, non è in futuro e se è fermo diventa eternità. Questa è la cosa che mi ha colpito molto. Il tempo si appiattisce quando la figlia riega tringur e diventa, per me è diventato eternità. Il tempo diventa un'ombra lunghissima. Poi ci sono le varie descrizioni, mi piace, come la dottoressa Grangiano ha letto in queste pagine del libro e soffermarmi su questi aspetti che sono descrittivi, ma lo sono nella misura in cui io voglio, con i miei sensi, messi insieme, in maniera sinestetica, si dice, sinestesica anzi, non sinestetica, tutti i sensi confusi che hanno le stesse percezioni. Cioè sentire con gli occhi, vedere con il tatto e questa confusione dei sensi che permette di percepire quello che io scrivo e quello che tu leggi e che gratifica molto me che scrivo perché hai detto quello che io voglio fare. Più hai visto, con i miei occhi e hai sentito, queste sensazioni che appartengono alla furbizia di scrivere e di slendere secondo l'attesa del lettore fanno parte un po' dell'obiettivo di questo libro. C'è un momento in cui tu dici che si parte una mosca, ok, che sarà schipazzato, va diverso, arrivi a Yekaterinburg, a un certo punto riparti da Yekaterinburg e c'è un punto in cui tu percepisci lo stacco rispetto alla Russia europea. Cioè ti si apre davanti un'altra dimensione. Quest'altra dimensione è dici che ti apre davanti più o meno in che punto? Quando stai per arrivare nel Cusco, vicino alla Coppa di Casa, ce l'hai questa sensazione di... Io conosco esattamente il meridiano geografico dove è avvenuto questa frattura del tempo. Quando il tempo ha cambiato ombra, è diventata l'ombra lunga di Gneo, che è l'ombra di Gneo, che è l'ombra di Gneo, che è l'ombra di Gneo. Io ho visto quest'ombra lunghissima e ho percepito tutta la lunghezza dei 9000 km piccoli da parte. Il meridiano è quello dei rituali perché è quello là, il momento della separazione. Ma in quel momento io ho sentito che chi scrive deve descrivere, se vi do ancora la lettrista e Canzano, deve descrivere quello che sente. Perché parlare di transimperiano può venire in una pagina, è pochissimo da dire teoricamente, però puoi fare una biblioteca parlando di come tu percepisci la dimensione del viaggio, la dimensione temporale, spaziale, culturale, delle tradizioni della gente che incontri e che devi conoscere a priori, leggere nel volto rotondo, perfettamente rotondo, il mio bambino, il mio bambino è un po' di calorini. Non sai dove stanno gli occhi perché sono nascosti in queste feritoie e noi siamo abituati ai nostri garanti e somatici. e quindi questa è stata la scoperta. Il tempo che non ha più senso perché non possiamo più condarlo secondo rosa. infatti l'abbiamo contato per stazioni terminearie. E' un modo di contare il tempo siberiano. Ci sono mille stazioni da rosa, così più di mille che devono raffondare. Però sicuramente quando avevamo degli obiettivi scalavamo dalla rosa stazione. Si raggiano in termini di tappe di stazione. Più o meno io ho letto che il percorso per come è stato pianificato prende circa 30 giorni. Chiaramente vanno operate delle scelte e qui secondo me sono state fatte delle scelte molto interessanti perché ci si trova davanti oggettivamente a tutta una serenità per cui bisogna studiare prima la storia per capire se oltre ad essere un insediamento industriale una forma di colonizzazione dell'Oriente Russo ci siano anche proprio dei punti di interesse in cui valga la pena discendere dai delicati del tempo. Quindi tutto il viaggio di preparazione in realtà serve proprio a quello. Serve a capire cosa vedere, credo soprattutto. Cosa andare a vedere. e questo è stato, a mio avviso, la parte più faticosa della premessa del viaggio. Sempre era strano che il viaggio diventa faticoso ma proprio perché devi concepire tutte le possibili difficoltà come organizzarsi se succede questo o come viaggiamo. E come è successo qualche cosa non mi distante. non è scritto nel libro perché il libro vuole essere anche una sollecitazione a scoprirsi facendo questo viaggio. C'è una citazione per chi legge il libro a fare con la mia esperienza con occhi diversi, con cultura diversa, con sensibilità diversa e magari con affinatezza culturali. In questo libro non compaiono tutte le considerazioni che ho fatto voi dopo averlo pubblicato grazie all'editore dei il quale ha creduto in questo libro e credo che io ne sono molto riconoscente perché ci sono andato in danno dei suggerimenti fondamentali che mancavano di tutto. Infatti sempre adesso ho fatto la parola al cancro e io me la lascio volentieri su ma si ci racconta un po' del concetto. Dopo aver detto particolare che nasce dopo nelle considerazioni della scrittura. Il libro è stato scritto, scritto il libro finisce là perché se lo rileggi ci provvederà poi per fortuna è venuta già la prima di stampa e quindi questo mi ha permesso di togliere qualche virgola in due, qualche romeo in più. Il concetto che mi è tornato spesso alla mente è quello di alegría è un termine che sicuramente conoscete. Alegría significa verità. In realtà per me il termine ha assunto un significato diverso perché l'ete significa dimenticanza. A fabbrica di contogli senza dimenticanza. Cioè quello che non è dimenticabile diventa verità. Per me togliere questo aspetto di quello che non è dimenticabile diventa il viaggio. Cioè questo viaggio è non verità secondo l'opportuna etimologia di Alete e Apenidesi ma diventa scoperta e mantenimento di quello che hai scoperto, conservazione di quello che hai scoperto. Ecco è proprio la proiezione del tempo del mio viaggio. Da qui in licenza riscrivi. Direi che hai voluto affrontare un altro viaggio al termine del viaggio che avevi preparato. Ma poi riscriverlo e riscriverlo. È giusto adesso insomma. Prima di tutto rinnovo le mie scuse per il ritardo. Ringrazio il padrone di casa, ringrazio qui Leonardo, ringrazio suo padre e non solo per ospitare questa iniziativa ma in generale per tutta l'attività che svolgono di divulgazione della cultura, della lingua, della letteratura russa. E sono molto contento di aver pubblicato questo testo, veramente interessante. Un testo, molti erano, molte pubblicazioni ci sono state nel corso degli ultimi decenni dedicate alla transiberiana. Questa è una pubblicazione particolare perché da un lato descrive questa lunghissima strada ferrata, descrive i territori che vengono attraversati, ma dall'altro è un viaggio anche inferiore come condensa in poche righe, ma in modo molto efficace, Machinero nella sua introduzione e quindi ovviamente lo consiglio. Tocca tutto, diciamo già prima era un'opera quasi esaustiva. Io ho suggerito alcuni passaggi tipo l'importante contributo dato dai friolani nella costruzione della parte più importante, quella che costeggia il lago Baikal e che è montagnosa e che comportavano dal punto di vista tecnologico delle difficoltà in quanto sono stati scavati scalpellini friolani decine e decine di tunnel. E poi questo è diciamo di attualità questo argomento perché di recente, grazie a un decreto presidenziale, gli italiani ufficialmente sono annoverati all'interno della Federazione Russa tra le minoranze nazionali, cioè tra coloro che ufficialmente abitano, la minoranza italiana abita la Federazione Russa. A questo proposito si fa riferimento soprattutto alla comunità che abita in Crimea e che è numerosa e che ha mantenuto tradizioni, che ha mantenuto la lingua e che durante 25 anni inutilmente aveva chiesto a Kir riconoscimento culturale senza avere risposta. E poi ci sono appunto i friolani perché i friolani all'inizio del Novecento si trasferirono nell'estremo oriente russo per costruire la Transiberiana. Molti di loro non tornarono perché intrapresero delle attività, alcuni si sposarono con delle russe e fino poi con l'avvento del potere sovietico una parte di loro ritornò in Italia, altri invece rimasero sul posto, ma purtroppo furono colpiti dalle kurde staliniane molte di loro e però adesso nel corso, proprio presso l'istituto di sociologia della Teneva delle Scienze Russa, una ricerca e sono stati trovati i discendenti, sono stati trovati parecchie tombe di friolani in Siberia e quindi c'è anche questo aspetto particolare. Poi ho avuto questa anticipazione, oggi pomeriggio, che mi ha riempito di gioia e di ammirazione perché è un'iniziativa ignomiabile, che l'autore insieme a voi sta organizzando, io volentieri sono pronto a dare il mio potesto contributo, un viaggio in Russia, un viaggio sulla transiberiana e quindi ci penseremo nei prossimici. Ci penseremo nei prossimici, avevo suggerito anche di allargare, di coinvolgere anche la fasciata di Mongolia, visto che è stata fatta questa digressione anche verso la Mongolia. Mongolia, che peraltro, visto che siamo in una sede in cui si insegna la lingua russa, in Mongolia la più parte della popolazione conosce molto bene l'ancore russo, non è stato abbandonato, adesso è stato scaccato all'inglese nello studio delle lingue straniere, poi ricordiamo che il popolo si scrive con la proposta cilindrica. Io non voglio togliere spazio a voi, non voglio togliere spazio, credo che il pubblico voglia magari correre qualche quesito e quindi... Ah, è vero, abbiamo qui la nostra attrice, brammaturga, Olga, che deve intervenire citando alcuni estratti del volume. Grazie a tutti. Buongiorno, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'importante è che, insomma, vi sentiate. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare sia l'editore sia l'autore del libro e, insomma, naturalmente il dottor Frizzio per l'intervento che ha fatto prima. Io vorrei, appunto, allacciarmi un po' a quello che è Just in Tendation perché è una cosa, diciamo, indispensabile da fare quando ti trovi a fare l'intervento per ultimo e giustamente non puoi assolutamente prescindere da quello che è già stato detto. Innanzitutto questo libro è un libro di viaggio, una specie, tutto quello che a cinema chiamerebbero docu-fiction, nel senso che ci sono sicuramente dei momenti di descrizione, per cui dei momenti quasi del documentario. E poi ci sono dei momenti poetici, addirittura c'è, per esempio, un momento in cui si consuma l'atto amoroso tra una carrozza e l'altra carrozza di questo treno, insomma, di questa trattata siberiana. Succede anche questo, succedono tantissime cose. La transiberiana, come ha già detto anche il dottor Pertuzzi, diciamo che è una strada che in realtà è stata pianificata, è stata programmata nel 1900, è stata gemellata con la torre Pell, però, per così dire, non è per certi versi. Quindi, dunque, ha più percorsi sul Permacross e diciamo che, secondo alcune definizioni, questa strada non è ancora costruita fino a fondo, nel senso che c'è sempre il progetto di continuare, di portarla a termine, di portarla di modo che ci sia sempre più collegamento, ci sia sempre più commercio fra un punto A e un punto B e, come ha già detto il dottor Pertuzzi, tutto ciò che è il commercio sotto, diciamo, questo progetto qua, un po' fallisce, continua a fallire e lo fa già dal 1900 e, mentre invece quell'altro progetto, quello culturale, quindi un legame culturale fra un punto A e un punto B e anche, cioè, arriviamo fino al punto Z addirittura, sì, 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 diciamo, il legame culturale è quello che invece prende forza. Dottor Pertuzzi Dottor Pertuzzi Dottor Pertuzzi Dottor Pertuzzi Dottor Pertuzzi Dottor Pertuzzi è stato detto da parecchi autori questo quando il libro esce se lo riapre dice no io questo passaggio forse lo oggi come oggi io lo cambierei quest'altro passaggio lo toglierei quest'altro ancora lo riscriverei e poi aggiungerei delle cose e quindi ho chiesto all'autore cosa potrebbe dire oggi insomma ormai a posteriori nelle varie postazioni e mi ha detto guarda tu prova a fare una cosa prova a rileggertelo riguardarlo tutto quanto ripassartelo e vedi un po' cosa ti suggerisce quello che in ogni libro c'è una specie di voce interiore in un autore e questa voce interiore di Vittorio Russo è fortissima ha uno stile particolarissimo e diciamo che questa voce interiore ha suggerito questo ed è proprio per quello che forse altre parole Vittorio non avrebbe da aggiungere come esattamente ha fatto anche Leo Tolstoi quando gli è stato chiesto ma lei con con guerra e pace che cosa voleva dire in sostanza e Tolstoi rispose io non potrei dirvelo potrei riscriverlo e riscriverlo totalmente dall'A alla Z ma sarebbe sempre quello quindi per me diciamo che il messaggio fondamentale del libro sarebbe proprio questo qui innanzitutto è un libro dedicato a chi viaggia o pensiero prima ancora che fisicamente in voi senza tempo e poi per l'autore che parla di questo momento per la sua vita morire sarebbe come pagare per il privilegio di essere assunti ma prima ancora che questo accada bisogna andare andare ad incontrare la diversità perché proprio la diversità ci riconferma nell'unità attraverso la molteplicità quindi queste cose un po' filosofiche ci stanno dicendo che l'autore in realtà il viaggio se le fa lo si fa ancora e lo si farà ancora anche per riscoprire se stesso se stesso perché ogni viaggio in realtà è un viaggio anche verso se stesso quindi un'altra cultura almeno per l'autore non è nient'altro che lo specchio della nostra per cui conoscendo più culture conosciamo meglio anche noi stessi e c'è un tratto fantastico un po' abbastanza dantesco in cui l'autore dice questo usciamo sperando che ci sia un cielo annullo ma il cielo non è mai azzurro se non c'è il sole e oggi il sole non c'è ma il viaggio continua e visto che appunto la transiberiana non è finita nemmeno nella sua costruzione io auguro a tutti che ognuno di voi abbia la sua transiberiana se c'è qualche domanda se c'è qualche domanda 9.000 km quante ore sono passate sopra le vuote del treno che girano fino alla domanda e quante fermate quante città visitate quanti giorni fermo cioè il rapporto tra il percorso e il tempo per guardarsi intorno algebricamente algebricamente le stazioni cioè per contare in delta la mosca la divosov sono oltre mille stazioni non le ho contate le ho lette come si misura il tempo non certo più con l'orologio soprattutto una volta allargati cambia la dimensione del tempo e quindi il tempo lo misuravamo in stazioni abbiamo ancora 40 stazioni da fare per arrivare a ed è un ottimo modo di concepire il tempo ho notato una cosa in Siberia l'accede non ha orologio non è forse per caso che io ho notato questo perché il mio orologio non sentivo più l'ho girato nella parte ecco così tanto non mi serviva guardarlo però era presente in me per il mio compagno di viaggio il concetto di tempo prima qualche riflessione filosofica viene fuori qualche punto di vista che appartiene poi alla logica del libro il tempo effettivamente ha senso quando lo riempi di venti se non ci sono i venti il tempo non ha molto valore non hanno valore neanche le cose se il tempo che dà loro una dimensione non eseguita di qualche vento spero di aver risposto alle sue domande il riferimento era alle cose viste ossia il tempo seduto su un divano del treno divano divano sedile è diverso dal tempo passato camminando in una città si ha tempo non si ha modo di vedere qualche altra cosa che il divano perché 9000 km significa almeno andando anche a 60 di media tante ore passate dentro il treno non fuori quindi si vede un po' di panorama ma c'è modo di vedere di parlare con la gente di visitare San Pietro tanto per dire come come un esempio certo al mio compagno e a me interessava fare un viaggio soprattutto alla ricerca di noi stessi confondando il suo mondo è un po' un braccio di velo che ne avevo mai scritto la verità è che il vero viaggio l'abbiamo fatto nel treno nel treno fra la gente che abita nel treno perché per noi era un viaggio di curiosità culturali etnografiche ma per chi sta nel treno e in ghiaccia per motivi di lavoro per ragioni più varie quella gente era il nostro obiettivo e vi assicuro avrei potuto scrivere per funzione a parte ancora tre volte questo libro se avessi dovuto raccontare le esperienze di conoscenza con i bambini con il samoyedo che si trovava lì come noi per fare un breve ora queste persone sono il motivo scatenante previsto nel nostro viaggio e noi li abbiamo toccati con mano siamo scesi in questo girone dell'inferno perché tali sono una terza classe siberiana transiberiana è una dimensione tragica tutto tutto aperto tutto sfidastato però abbiamo simpatizzato senza parole noi perché messavamo valore a pubblicità loro perché erano la nostra pubblicità i bambini ci toccavano per vedere di che materiale umano ed è bello questa sensazione del bambino che ti guarda prima spaurito poi confidente prima nascosto dietro la madre poi con quegli oggetti che finalmente si aprono dietro queste peridurie degli occhi queste piccole veste sembrano quelle forme olmeche perfettamente rototte così sono le veste dei bambini di quella parte del mondo e comunque ci sono queste cose descritte così non tutti sono piacevoli da vedere questi roti soprattutto i mongoli abbiamo visto roti scolpiti con piccore zigoni sporgenti facce tagliate però in tutti poi c'era questa umanità che si può vedere la cosa che mi è piaciuto dire con occhio dentro tanti popoli non so quanti sono una novantina di etnie unite sotto una stessa bandiera questa è una cosa molto bella perché questi popoli sarebbero scomparsi come identità come cultura come tradizioni se non avessero una comune patria poco sentito poco sentita questo è un'interessante anche più di tanto ma hanno riferimento a questo grazie 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 una domanda da parte del direttore ciao io purtroppo non ho avuto la possibilità di leggere perché avevamo una sua copia e Leonardo si è presa per fare la presentazione per cui spero che sia in vendita quindi assolutamente per avere la prima di andare per il suo buone no volevo dire che io ho avuto due volte la possibilità di fare la danza italiana 15 anni fa quando Alberto Angela si è venuto per fare un servizio sulla danza italiana e mi aveva la voglia di accompagnarlo io stesso invece di arrivare a Mosca c'era un amico giornalista russo non c'era un coltello italiano e quindi fece accompagnare lui al giorno però Angela mi disse caro direttore purtroppo siamo dovuti tornare in aereo perché avranno poco tempo altrimenti l'avranno rifatta anche 172 e quindi questa è la prima volta anzi la seconda volta la prima volta avvenne nel 1962 quando io cominciai a studiare all'università di Ingrado nella facoltà di filologia scienze lingue slave e avevamo un mese di tempo nel gennaio del 63 perché nel friore prima i studenti strani erano sfida di facoltiare molti amici avevano una decina di italiani di Ingrado scelsero di andare attraverso la penzia italiana a Pechino andavano per un bel pezzo in penzia italiana per pesare una piega di colo per Pechino e ritornarono e dissero ma se che fesso perché non sei inutile è una cosa meravigliosa ma tu che hai fatto guarda non ti posso dire sto ancora piando perché io ho scelto ho scelto Tullin l'estonia che era vicino attaccare l'eningrado per essere comodo eccetera e allora l'estonia era soltanto da 20 anni 22 anni sotto l'unione sovietica e c'era un forte sentimento antisovietico antitero io entrai in una deliosca i famosi dei tuoi stranieri dove si poteva parlare in valuta e erano 3-4 mesi parlavo appena con il russo e dissi e ti sminiti e l'eusca morna smatriez iantarni iotan busi scusi signorina posso vedere questa colana piandra quella stava e non mi risponde una due tre ma rimortarci due ma che vuol dire se non è che straniera sono straniera allora vengo su con una bella parolaccia italiana però non dimenticherò mai diciamo così questa cosa di aver perso questa occasione di fare la transitaliana io vorrei soltanto fare una domanda ho letto sull'insidio russi che c'è stato un momento in cui credo durante l'unità sovietica si voleva fare la ferrovia più lunga del mondo perché questa è 9300 chilometri che volevano fare il tratto dalla forse dalla Mongolia fino a da noi al Vietnam poi però a un certo punto per ragioni moribili non si è più fatto ecco volevo sapere ma durante questi diciamo così questi questo convoglio c'erano i vari vagoni che arrivavano ad un certo punto e poi si fermavano e venivano sostituiti per il pietro si guardi che noi non siamo messi nel freno a posta e siamo sbancati noi scendevamo nelle stazioni stavamo dei giorni poi proseguivamo qualche con un altro treno e molti in volte avevamo di fronte a noi molti nuovi persone diverse questo poi il bello del viaggio perché noi decidiamo come andare cosa vedere avendo stabilito a biori quali curiosità dovevano sollecitare la nostra emozione e questo è stato puntualmente realizzato io vorrei fare una piccola recitazione la transiberiana nacque nella mente posso dire folle di Alessandro Alessandro che non è un grande sovrano la storia è detto che era un sovrano che per me non è vero è stato un grande sovrano perché volontariamente ha concepito una cosa che non si è realizzata nel suo tempo la transiberiana fatta da Alessandro Testo è durata da diciamo a Napoli dalla d'Alessandro Stefano perché è stata fatta con era un po' perzottata tutto era promvisorio tutto fatto con risparmio non si riusciva a perforare queste montagne sono arrivati i fiumali che si sono messi là a scolpire le montagne poi finalmente l'hanno fatta ma quella transiberiana non ha mai funzionato c'era un diragliamento ogni tre ore immaginate quello che poteva succedere in una ferrovia però ha concepito un'opera che vista oggi avrebbe l'equivalenza di Belicolente di andare su Marte concepito da un sovrano folle che era Alessandro Gessiterzo lui voleva unire l'Occidente al Giappone poi finì a botte con il Giappone ricordate la transiberiana non era ancora finita e c'è a botte da orvi i giapponesi arrivarono per ragioni che non stiamo qui a rivoltare smandellarono tutta la parte finale della transiberiana oggi è d'attualità la transiberiana che arriva sul Pacifico ci sarà un tunnel che arriverà sull'inizio da Sacra e da Sacra lì giungerà a Hokkaido in Giappone quindi le merci dall'Europa arriveranno in Giappone cosa pensare così sognando l'Alessandro diventerà realtà come sono i tre c'è uno scartamento diverso tra Russia e Mongolia ma noi non siamo andati in Mongolia in treno ci siamo andati con un bulmanino che sembrava uscito da un cartone animato era piccolo gonfio di persone io ho detto ci sentivamo come le scorze di un carciofo luna appoggiava l'altra io e il mio compagno che è abbastanza esteso in latitudine e quindi siamo scesi lungo questo percorso di la Mongolia immaginando uno spazio infinito dove tutto verdeciano almeno durante la stazione che è buona e di tanto in tanto c'è una montagna appallottolata alla bura poi di tanto in tanto qualche cavallo qualche yak qualche altro animale in quel bellissimo book trailer che ha preparato una delle collaboratrici del lettore che secondo me sarebbe bello vedere però non so se possiamo è molto bello e ci sono questi cavalli che percorrono gli spazi infiniti della Mongolia da pelle tocca perché noi abbiamo visto quello che lei senza essere stata in transimperiana in Mongolia ha letto ma l'hanno spiegati in una iurta siamo stati in una iurta che non si chiama iurta iurta si dice in Russia si chiama Gers siamo stati nella Gers ci sono degli odori caratteristici che io non li vendiverò mai si avviano tutti nel naso e sono odori di formaggio di latte cagliato di latte andato male del latte i mongoli fanno tutto un formaggio che non riescono a plasticare perché è duro come la pietra delle rocce del Baikal lo vedo in bocca lo succhiano per fosse un'altra me io ricordo questi sapori della guerra la guerra è il luogo della scuola è il luogo della casa è il luogo del sifoso è la casa mobile per certi versi è un ambiente bellissimo ed è antichissimo addirittura ne parlano gli storici ne ha parlato un autore il primo storico il primo storico il padre della Sleodo erodo ha accennato a una chiesa a una iusta io quando sono andato a leggere questo passaggio di erodoto mi sono ritrovato nell'iusta perché secondo me è un luogo di abbruna magari oggi l'aiuta ha anche le ruote di legno perché la spostano secondo le sceglie in un luogo non ci sono spalle non ci sono luoghi dove ricoverare gli animali gli animali vivono all'aperto la congola è con rispetto per la stalla è una stalla enorme dove gli animali sono liberi poi si vengono l'inverno ma è inverno anche l'estate perché per effetto del permafrot il permafrot è quel fenomeno che vede il terreno congelato per migliaia di metri in profondità quindi è costantemente congelato da milioni di anni e si vive nelle gays perché sono l'ambiente più adatto alla vita la casa di pietra finirà per trasmetterlo invece la che era la vostra a questo punto dimenticato lo sono amato lo scartamento dei treni dalla Siberia e Mongolia al Comune si toglie il carrello non so cosa fanno noi l'abbiamo visto però me l'hanno raccontata dell'esperienza tragica per chi pare bisogna aspettare mezza giornata noi pure abbiamo fatto la nostra lunga sosta in frontiera perché c'era un addetto ai lavori che doveva controllare il nostro passaporto ed è stato il passaggio attraverso la che orde sembrava un passaggio attraverso un fiume di sangue perché questo signore doveva lezze in una lingua che probabilmente carattere che non conosceva e doveva far sì che noi rassomigliassimo alla foto e non la foto a noi ora la nostra cosa normalmente è sempre un gestesso migliorato perché hai la gravata i capelli quando c'è gli agli organizzati secondo le decisioni del tettino e naturalmente quella cosa là sul passaporto non corrisponde a questa faccia qui che ha fatto 12 ore di questo famoso pulmino che è scavato nei fumetti e quindi non corrisponde lui stava a guardare quali possibili vicinanze ci fossero tra quelle immagini e questa realtà poi alla fine questa martellata che è un timbro rosso come il sangue che è perso e mi ha ricordato una cosa vista o letta nei libri di Salgari quando l'enfante solleva il piede e si chiaccia all'estate come un altro così mi è perso quel colpo di timbro e la pagina bianca del mio passaporto aveva il direttore produzione aveva parlato anche di un collegamento con Hanoi giusto allora la Cina nel voce di pochissimi anni 12 anni è divenuta il paese leader al mondo per l'alta velocità ferroviaria era praticamente partita da zero e adesso tutte le reti di alta velocità ferroviaria al mondo sommate insieme non raggiungono l'estensione della Cina la quale sta investendo moltissimo anche all'estero e sta investendo una comunicazione una diretta tra Pechino e Mosca ad alta velocità che consentirà passando dalla capitale Kazaka quindi passando da Stana di raggiungere in meno di due giorni Mosca e quindi è un'autistica rivoluzione e poi naturalmente anche c'è il collegamento Pechino-Shanghai che nonostante i rapporti come sempre sono tesi tra Cina e Miettram comunque ci sarà il collegamento anche con Hanoi quindi la incendiera raggevole poi non so se è stato menzionato è stato menzionato il Baikal a mosti magistrale il BAM che fu quella grande opera costosissima intrapresa negli anni Ottanta mobilitando una quantità enorme di giovani per costruirla che passava passa perché adesso anche grazie a tutti in estate è stata abbandonata passa a nord del lago Baikal e questo aveva una doppia valenza naturalmente economica perché ci sono territori vastissimi qui sotto il sole è ricchissimo di materie prime ma anche ai tempi strategica perché con la Cina c'erano rapporti tesissimi si era arrivati addirittura alle 70 agli scontri sull'amor per per questioni di demarcazione delle frontiere e adesso invece questa può essere è stata ripristinata è una tra l'altro lunghissima più di 3.000 km e questo consentirà adesso una espansione anche in quelle zone io volevo fare un'ulteriore precisazione normalmente non amo parlare molto anche per via della luce che è scadente e qualcuno mi dice ma come intendevate con le persone noi non ci intendevamo affatto parlavamo la lingua molto spesso la lingua migliore non è quella tradotta perché le parole tradotte tradiscono poi le parole si portano dietro una cultura se io dico amore per me e per noi ha una valenza precisa significa quelle cose ma già se mi sposto in grecia per dire amore è usare 5 parole perché loro hanno una differenzazione diversa di radicalità antica ora come si parla con qualcuno dall'altra parte del pianeta che parla lingue che non hanno niente della nostra non puoi parlare allora forse la migliore lingua è il silenzio e il silenzio diventa travolta dovrebbe diventare la ma di lingua dell'umanità perché molte parole sono assolutamente insublese me ne sono reso conto parlando dei bambini di quell'altra parte del mondo senza parole e quando ha incontrato un bambino che conosceva l'inglese è stata una tragedia perché questo bambino conoscendo l'inglese e potendo esercitarsi agli occhi della mamma che non parlava niente non parlava escluso ma era orgoglioso di vedere questo bambino di 7, 8, 10 anni che parlava inglese con noi che venivamo da un altro mondo è una nota bellissima in genere che sono i nonni che raccontano in cui e ho visto questo bambino di 9 anni che mi ha raccontato una fiabba una cosa meravigliosa mi ha raccontato una fiabba di Tolstoi traducendo mentalmente io mi conoscevo che l'espruducivo ma mi conosceva con una perfetta sincronia e ha raccontato questa fiabba dei due cavalli questa fiabba di Tolstoi me l'ha raccontato come si tossirò il bambino e lui l'adulto che mi guardava perché come la fiabba di Tolstoi ha un mio significato quindi stranamente mi ha raccontato questa fiabba e mi ha chiesto come significa e ho detto cristerai a un bambino non bisogna mai dire da grande capirai bisogna dirlo subito quello che si però io non sapevo che cosa dirgli perché effettivamente lì ci vuole il tempo per capire quello che voleva dire Tolstoi con questa sottotità questo è tutto mi permetto solo di usare questo pittore perché il discorso della sintonia tra popoli con le gestualità è un discorso sicuramente giusto perché ci sta il codice che va oltre le lingue diciamo che però noi qui insegnando la lingua russa diamo una possibilità chiaramente anche a tutte le persone che seguono i nostri corsi in generale si avvicinano alla lingua anche di entrare in contatto con una modalità linguistica che in alcuni casi non è poi così distante dalla mentalità latina perché anche all'interno dell'alfabeto cilindrico ci sono le lettere latine e perché la nostra mentalità non è poi così distante quindi oltre diciamo al linguaggio paraverbale nel nostro caso abbiamo qualche anno in più perché chiaramente chi ci segue parla anche un po' di rux e quindi può distrigarci anche con questi strumenti avevamo un'altra domanda prego ma una curiosità perché da Transiberiano conosco solo il fatto che il Dilegno è provisionalmente di moda però non è per me conoscenza quando era adolescente negli anni 70 che era per quel tipo di gioventù un po' un po' politica così un viaggio di iniziazione come comandare l'India cioè il viaggio in Messico però ormai era la famosa anche prima come cosa turistica da fare turistica o iniziatica era la famosa turisticamente la famosa prima non nota o questa è una cosa degli anni 60 70 come divulgazione di massa di fama dicevo ce l'ho capito bene lei mi chiede come nasce il mio viaggio no come nasce la fama della turistica della transiberiana ho detto lei stesso nasce in quel clima di moda in quegli anni io credo questi anni si erano nel 70 quando di moda c'è l'India prima che la transiberiana l'India ancora di più non ho conosciuto nessuno che abbia fatto la transiberiana no no la transiberiana non la fanno in molti anche perché detto transiberiana è nel clandici anni spaviglio di decine però dopo due attimi due batti di tibone dice ma aspetta ma sta transiberiana è tosta la transiberiana dicevo bene il dottor seduti ma tu quando ti metti nel freno puoi andare da quell'altra parte 9000 si scrive in un secondo devi farli 9000 puoi misurarli come uno a una paura iniziale a un orologio a calendario misurati come voi o con la glessidra sono 9000 chilometri isremessibili e esitucibili e quindi effettivamente poi ecco il mito cade come un castello di santi però se sei convinto che quel viaggio lo fai prima da una parte all'altra di Cristo e poi da una parte all'altra del mondo e allora è impossibile farlo e io sono stato fortunatissimo perché ho incontrato un Sancho Panza compagno di viaggio che mi identifica e mi dico che erano qui sotto non perché mi ti vuole ma perché è peggiore di Sancho Panza e quando me lo era Sancho ci vogliono due personaggi così per fare la transiteria se no non la fai non ha niente da dirci che fai in un treno se tu non sai viaggiare nel treno non puoi viaggiare guardando oltre il finestrino questo è fondamentale allora tutti quelli che vogliono fare questo viaggio si tolgono dalla mente che è un viaggio per turisti questo è un viaggio per viaggiatori da un passo lungo un viaggio per camminatori diciamogli però bene perché seguo il volto sempre dire bene queste cose vuole fare la sensibilità io sono stato fortunato perché con il mio Sancho Panza a parte qualche di verbio violentissimo ci hanno segnito fino all'ultimo vagone si grida si grida anche vuole dire che siamo mappoletani lui è siciliano addirittura abbiamo visto moltissimo quando abbiamo invitato Totò per farsi capire abbiamo trovato abbiamo trovato qualcuno che ripeteva in napoletano Nucle Mossa e questo qua che non aveva capito il nostro giorno ripeteva il nostro visto parlava non c'è scherzo Nucle Mossa ci sono anche questi effetti vorrei aggiungere una cosa effettivamente la transiberiana negli anni 70 ma anche prima non è stata oggetto di grandi viaggi di massa intanto per una questione proprio molto pratica perché era difficile non tu non potevi viaggiare così per tenere molte di visti comunque dove c'erano alcune città chiuse come la di Vastop che era chiusa addirittura i cittadini somietici che dovevano avere un permesso speciale per accedere comunque si facevano dei viaggi erano tutti dovevano passare attraverso l'agenzia di stato per il turismo il turismo e quindi questo già frenava molto una fruizione di massa comunque ci sono stati tanti viaggi organizzati più che altro il viaggio della transiberiana è sempre stato un viaggio mentale è stato nell'immaginario collettivo sono stati scritti anche molti romanzi diciamo di genere spionistico gialli eccetera che la riguardano però non c'è mai stato proprio secondo me per questo motivo per le difficoltà di ordine burocratico non è stata non c'è mai stato una una frequentazione di massa da parte degli occidentali è stata un mezzo di locomozione quasi inclusivo nel collegamento per molti anche occidentali che si recavano in Giappone che si recavano in Cina perché l'aereo collegamenti di linea bisognava aspettare gli anni 50 per andare in Giappone in Cina così e poi alcuni personaggi in ero percorsi c'è un bel servizio per esempio David Bowie andò nel penso credo fosse nel 73 si possono trovare fotografie forse anche filmati nel suo viaggio e quindi però ecco non è stato un fenomeno assolutamente di massa domanda che può darsi banale ma attualmente come si può organizzare un viaggio così diciamo così non molto dettagliata ma così giusto immaginare un attimino la prima cosa di miniera dire la prima cosa di miniera dire è di prendere spunto da questo perché bisogna fare una selezione come abbiamo detto prima non si parte per vedere tutto non ha senso quindi ad esempio partire da Mosca oppure partire un po' più da nord partire da San Pedro e scendere poi giù consente di arrivare fino a il Kusk al lago Baikal e di vedere quantomeno la prima parte dove lo stacco avere un po' un panorama sulla Russia asiatica quindi in termini di tappe secondo me qui c'è un'ottima indicazione poi chiaramente noi come istituto stiamo proponendo in collaborazione con autori e con editori dei percorsi un po' più particolari di viaggio per cui in termini di tappe secondo me questo è un po' riferimento poi se oltre esatto sì perché da un'idea delle tappe ci sono delle piccole sezioni che parlano anche dei luoghi si fa un po' la storia dei luoghi insomma ci si fa un'idea ma chiaramente se si vuole avere anche un supporto proprio operativo nell'organizzazione da questo punto di vista dico di pericolgere a noi sicuramente che lo stiamo facendo stiamo facendo San Pietroburgo Mosca faremo la dieta transita e l'idea di fare anche quella di transimereano io ho chiamato Vittorio una settimana fa sì ti voglio dire bisogna fare una sosta ai tuzzi andare a lago barigana a lì sono i compongi hanno sciamanisti sì 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 ancora gli sciamani russi infatti c'è una parte che riguarda la ritorno in Zeroga quindi ecco diciamo che stiamo facendo tutta una serie di itinerari ma anche proponendomi una serie di viaggimi non sono solo Mosca o San Pietroburgo oppure lo sono in una chiave diversa sia San Pietroburgo o Mosca facciamo dei itinerari che riguardano anche la letteratura la storia naturalmente ma anche la letteratura e poi uscendo un po' fuori dai nostri secondo me sì è un modo per cominciare a documentarsi perché abbiamo detto prima che è un viaggio per il quale bisogna documentarsi è un buon modo per cominciare poi magari apre anche la fantasia un approfondimento di arti del dallo io con il mio amico San Giovanzo il viaggio se lo stiamo organizzando ma il tuo amico poi esiste un personaggio io adesso ho il sorgetto che sia un personaggio in quale c'è la proiezione questo ritmo ha avuto un volevole successo di pubblico parecchie presentazioni però questo fantomatico non si è mai balessato non si è mai balessato è una finzione letterale è una circassa in questo libro c'è un culto romano che vediamo molte cose sono calcate sono modificate ci sono delle parti lo dico soldina siamo in famiglia famiglia le cose sono adatte e inventate ma un senso c'è esiste devo presentare il libro Marsala perchè lui è di Marsala e a fine maggio vogliamo presentare ma ci sarà Marsala apparirà un personaggio così reale che addirittura si sente più lui io senza un senso questo libro non avrei più lo scrivere perchè il genso diventa il predesto per dire delle cose il predesto per alleggerire il tono da solo il suo lettore è la spalla perchè senza un personaggio come da te vai bene a non guardare ma esiste 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 ma se non fosse esistito avrei potuto inventarlo che scrivi altrimenti da solo non fai da nessuna parte e questo viaggio io non avrei potuto farlo tenete conto io ho quasi 30 anni e alla mia età se non ce lo dicevi non ci sarei male avrei il coraggio 30 anni di affrontare la transimperiana significa che sei fuori non passo pazzo è costo di me ci hai messo tutti fuori in gioco questa cosa che la dobbiamo fare a questo punto nessuno ci ha più scuse non ci sono scuse i pazzi sono quelli pazzo viene da partire pazzi sono quelli che soffroni i pazienti non sono pazienti sono sofferenti e sono meglio sperati allora i folli sono quelli che come me e con un genito che mi imita per colui affrontano il viaggio ma lo affrontano con desinvoltura vedono tutto treno corrugato pieno di macchie di olio tutto io c'ho voglia di martire basta la dobbiamo organizzare chi vede il treno che si dice ma dove andiamo questo fa tre chilometri muove da miormeggi si spiagge muore quella è la garanzia che il treno può portare fino sui nostri costri e noi abbiamo in questa certezza guardato sui pazzi spaventati dal controllo il viaggio non si vede e quando il provocatore mi dice lo faresti questo viaggio e io gli dico si se avessi le gioccherate anche a bimbi però facciamo il treno facciamo il treno che 9000 anche perché ho programmato di fare l'esercito dell'amazon allora te lo fai lo hai introdotto l'hai introdotto perché lui è un grande capitano di lungo corso ma lui ha navigato più volte ha girato l'orbe del racco e adesso comunque siccome ha questa funzione è una cosa compulsiva per lui il viaggio sta compiando dei viaggi straordinari le Galapagos ecco insomma i tanti altri posti straordinari e per quello io lo vorrei coinvolgere in una seconda traccia per gli anni assolutamente sicuro facciamo poi anche Equatore Equatore assolutamente sì volevo annunciare una cosa straordinaria che verrà presentato questo libro al Salone di Torino dal prefattore anche l'autore Marchino ma soprattutto da Eduard Limono eccetera questo testo benissimo probabilmente non tutti sanno chi è Limono ma io credo che qualcuno di voi lo conosca è un musico sacco per certi essi e quell'autore francese Carrère mi ha fatto una meravigliosa un bel modo di entrare in contatto con Limono fa proprio quello di leggere altrimenti sfuggirebbe in occidente sfuggirebbe ma diciamo che ha avuto la sua parabola di fama e poi però c'è stato un momento in cui Carrère l'ha riscoperto perché era già famoso in realtà era un famoso fin dai primi anni 80 aveva scritto diversi tradotti nelle principali lingue europee poi sicuramente poi ha avuto un periodo di fortissimo impegno politico comunque sempre accompagnato da queste pubblicazioni di romanzi di testi politici e di poesie poi chissà scrive molta poesia e naturalmente l'uscita della biografia di Carrère mi dedicata poi lo ha fatto conoscere diciamo a grande pubblico io ricordo se voi conoscerete il professor Piretto lui per esempio già nei primi anni 80 aveva tenuto un corso sulla scrittura di Limonov era ancora che era Berbio un'università di Berbio poi comunque insomma quindi era conosciuto soprattutto in ambiente letterale è piacere perché Limonov è un testo anche del cattolo del libro può dare una bella visibilità a questo testo quindi è una bella notizia questa e poi mi annuncio anche l'uscita invece del libro di Limonov che verrà a presentare anche a Roma e l'organizzabilità e zona industriale il suo biografia biografia vera dopo quanti anni esce dalla Russia di Limonov dopo più di 20 anni durante i quali è stato in galera durante i quali non ha avuto la possibilità di uscire durante i quali invece negli ultimi anni avendo riacquisito la possibilità di espatriare è stato preso da una paranoia perché non pensava di essere dice no e arrivo in occidente mi arresta l'Interpol e mi portano e ho detto ma tu non hai compiuto hai combattuto in bote hai combattuto in Transnistra però non hai mai compiuto alcuna crimine di guerra per cui altrimenti se tutti coloro che hanno combattuto in Bosnia fossero arrestati e sarebbero 100.000 persone quindi speriamo di averlo in Italia mi ha telefonato quando in una trasmissione con Mentana lui era stato intervistato proprio da Mentana e diceva chissà se posso in Italia e tu poi non ho mai confermato che mi hanno telefonato a me non c'è nulla di ostativo se non nelle sue diciamo non arriva molto perché lui verrà in un casino del Salone sì il Salone prima passerà da Roma città in cui ha vissuto diversi mesi e ricorda molto bene perché lui arrivando da Mosca rimasi in attesa per gli Stati Uniti nel 1973 lui ricorda vividamente una Roma tappezzata di scritte di manifesti percorsa da manifestazioni e anche da scontri e infatti ricorda quel periodo faccio considerazioni così controretto la prima che anche da questa manifestazione tra quell'altro emerge l'impero multietnico multiculturale della Russia perché purtroppo la Russia si ha sempre immagine monolitica forse prima dalla storia quindi invece è 62 etnie e più c'è circa 100 ma appunto questa ricchezza è viva e esistente anzi purtroppo è del frutto delegata economicamente culturalmente l'altra considerazione può sembrare così parlo Stato il mezzo del futuro è il Tremo noi oggi pensiamo oggi c'è la compagnia cinese che garantisce il servizio da Pichino a Milano in 14 giorni e ha due corse a mese già dal gennaio e il treno parzialmente rispetto all'aereo per esempio ha il passaggio la possibilità di essere di cambiare modalità se tu poi dopo tu viaggi con il treno super veloce probabilmente viaggerai a 300 e poi vai sui giornali e sui locali rispetto ai percorsi che aumentano che sono quelli aerei che sono obbligati hanno libertà del viaggiatore che è sicuramente maggiore e questo dobbiamo pensare e sicuramente è il mezzo del futuro basta pensare il progetto cinese che io principalmente ve lo viaggio assolutamente d'accordo a proposito della prima considerazione sicuramente molti di voi già lo sanno ma diciamo tra le varie letture che si danno della matrioscica avete presente la matrioscica che qui ha questa madre questa colina all'interno della quale ci sono bambole e contadine sempre più piccole tra le varie letture che si danno c'è proprio il concetto di Russia come paese che include tutte queste etnie e quindi una diciamo ci sono questi due simplicati tra paese terra madre e anche una terra e un singolo che racchiude tutte queste etnie e gli dà un'unità quindi quello la matriolta ma anche questa strada terrata ai 9000 km ma anche la lingua russa che arriva un po' a congiungere tutte queste etnie e le fa convivere pacificamente sì poi visto che siamo in questa sede immagino che voi sappiate che la Costituzione russa che intanto la Russia è un paese multietrico e multiconfessionale la Costituzione russa contempla quattro religioni fondanti che sono il cristianesimo ortodosso che sono la religione musulmana quella ebraica e quella buddista che sono e poi ci sono tutta una serie di altre religioni che comunque hanno diritto esistono e sono professate c'è ancora una forte percentuale di riati e diagnostici nel paese e però tutte le lingue minori sono insegnate nelle varie età nelle varie pubbliche etnie ci sono di recente ho visto ho comprato l'interrattore e c'era un inserto dedicato alla poesia delle lingue non russe e qui avevano fatto un concorso un premio letterario quindi c'è un'attività intensissima anche nelle lingue delle varie etnie e poi facciamo un esempio semplicemente le lingue turchiche o turcofone che siano e in russia la russia è suddivisa in una novantina circa poco meno di entità e ce ne sono 36 36 che di queste dove la lingua che ha il russo è una lingua turcofona come per esempio il tata o come il baschiro come lo yakuto eccetera 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 tant'è vero che la russia dovrebbe entrare come paese osservatore anche nell'unione turcofona proprio perché ci sono 36 etnie che che parlano diverse lingue turcofone compreso l'indice compreso l'indice no l'indice l'indice è una lingua germanica è una lingua germanica e l'indice è la lingua ufficiale e anche qui se andiamo possiamo fare una piccola andiamo a lambire la repubblica autonoma degli ebrei con capicani di Robidjan e lì la riga ufficiale sono a fianco a russo e c'è l'indice e l'indice è diciamo all'8-9% la riga è una lingua autonoma di parole ebraiche e è principalmente basato sul tedesco quindi ed è la lingua ricchissima di cultura di poesia di tutti gli ebrei asche nazisti cioè gli ebrei del Sandro comunque in la federazione russa c'è l'1% di origine ebraica in tutte le amministrazioni dal consiglio dei ministri agli altri hanno l'1% per cui siccome hanno circa 100 da ministri i primi ministri e se c'è c'è uno che è ebreo proprio rispettare questa no in questo ti devo come dire ti devo dire che la percentuale di ebrei ai vertici russi è almeno 15 volte superiore a quella del almeno se noi prendiamo in tutti i settori da quello degli oligarchi a quello dei grandi scienziati a quello della musica a quello della letteratura a quello del cinema a quello del business e anche a quello politico perché noi abbiamo già avuto in russia tre primi ministri ebrei per esempio fratkov o chi sanno fratkov che in realtà ha cambiato nome come spettacolo era ebrevo un altro come si chiama israelite il suo vero nome era come si chiama negli anni dell'88 c'è stato un altro ebrevo Niemsov che è morto e è stato ucciso Niemsov che non era prima il premier ma è stato vice primo ministro Niemsov anche il primo ministro insomma c'è una presenza ebrega molto consistente e poi e poi il raddino capo di l'Unione è un milanese e un lupavich di origine milanese addirittura vabbè questa è un'altra storia ok è stata veramente grande grazie 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 meglio di no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.